Presentata al porto turistico Marina di Pescara nell'ambito della terza edizione di Sottocosta e a margine di un convegno su immigrazione e informazione, la barca della legalità, l'iniziativa che vuole sensibilizzare i ragazzi delle scuole, è nata da una sinergia fortemente voluta dalla Marina Militare e da Sail for Children. È una barca che ha portato persone in difficoltà, quindi è un testimone che noi abbiamo preso e abbiamo cercato di valorizzare proprio per favorire questa cultura dell'accoglienza in senso intelligente e trasmetterla ai ragazzi verso i quali è rivolto il progetto della Sail for Children. Coinvolgere i ragazzi in età scolare è importantissimo anche perché per lasciare anche qualcosa alle generazioni future, quindi l'intervento nella scuola è importantissimo, quindi trasmettere un senso di legalità, di cultura per il mare, di quella passione che spesso anche vivendo in un posto di mare non viene coltivata abbastanza e insieme alla Marina Militare, da Sail for Children e la Guardia Costiera, che è un grande partner che mette a disposizione i suoi mezzi, vogliamo trasmettere questa cultura alle nuove generazioni. Grazie.